Gli aggiornamenti quotidiani riguardo i nuovi casi di coronavirus forniti dal bollettino del Gores segnalano come nelle ultime 24 ore siano stati testati più di 2.100 tamponi. Nel percorso nuove diagnosi i positivi registrati sono 42. Di questi, tre casi sono riconducibili alla provincia di Pesaro Urbino, dove però è arrivata l'ufficialità di un nuovo caso positivo registrato tra i banchi di scuola e più precisamente presso l'Istituto Superiore Cecchi. Il caso è stato segnalato all'interno di una classe quinta e già da oggi è scattata la didattica a distanza per gli altri studenti che la compongono. Ieri mattina, metà mattinata, è arrivata la telefonata di prassi da parte del Dipartimento di Prevenzione e quindi ci hanno avvisato di questo primo caso positivo, che ovviamente dico data l'alto numero degli studenti e la diversificata provenienza dei nostri studenti l'avevamo comunque, come si dice, messo in conto. Ho parlato sia con la dottoressa che con il dottor Liberani che guida questo gruppo del Dipartimento di Prevenzione e quindi a questo punto a noi le abbiamo mandato l'elenco di tutti gli alunni della classe perché loro li potessero poi contattare perché tutti gli alunni saranno ovviamente sottoposti al test, quindi al tampone il giorno 6 ottobre e quindi ovviamente mi hanno disposto che la classe intera sia in quarantena dal 2 fino al 9. Abbiamo da subito attivato la didattica a distanza o meglio la didattica digitale integrata in quanto ovviamente già da oggi i nostri docenti sono nell'aula in streaming con la classe che è a casa. I docenti per le regole di distanziamento applicate dalla scuola, tutto il protocollo di rientro sulla base ovviamente della definizione di contatto stretto non rientrano tra i contatti stretti degli alunni perché ovviamente stavano sposti a una distanza di oltre 2 metri e se la distanza diminuisce fanno uso dei dispositivi di protezione quindi di mascherine e quant'altro. Quindi sulla base di questa definizione i docenti sono in servizio a scuola e stanno facendo la didattica digitale integrata con gli alunni. Ci sentiamo tranquilli perché abbiamo lavorato tutta l'estate per mettere a punto ovviamente un adeguato distanziamento e delle procedure di contenimento del contagio e di sicurezza per cui ci sentiamo abbastanza sicuri che se gli alunni e tutto il personale ovviamente segue le indicazioni date a scuola non c'è problema. La scuola deve essere pronta a rispondere in maniera adeguata cercando di contenere giustamente il contagio e cercando comunque di assicurare la continuità didattica perché è quello ovviamente che chiedo alle famiglie.